Anticipazioni beautiful americane Anticipazioni beautiful americane, Shayla in agguato, Matteo seduce Quinn Anticipazioni beautiful americane, Matteo seduce Quinn sotto l'ordine di Shayla. Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano un nuovo possibile tradimento da parte di Quinn nei confronti di Eric. Ancora una volta a giocare contro la coppia ci pensa Shayla. La Dark Lady è disposta a tutto pur di dividerli e di diventare lei la donna di Eric. Per tale motivo ingaggia un giovane e attraente ragazzo per corteggiare Quinn e farla cedere alla tentazione. La Carter ha notato che con Riggi ormai non c'è nulla da fare più e così l'unica possibilità per far cadere la Fuller è sottoporla ad un altro tipo di tentazione. Quinn ha dei problemi alla schiena e Shayla pensa bene di mandare Matteo, il ragazzo da lei ingaggiato per rovinare il matrimonio di Eric. Il giovane riesce subito a far colpo sulla Fuller, la quale appare molto attratta da lui. Matteo inizia a massaggiare la schiena di Quinn, che fa notare il suo apprezzamento. Dopo che il giovane lascia la Villa Forrester, la Fuller non può fare a meno di elogiare il massaggiatore di fronte a Eric. Beautiful anticipazioni americane, Matteo pensa di tirarsi indietro, Shayla raddoppia l'offerta. Nel frattempo, Shayla osserva il suo ritratto nella sua stanza d'albergo. Qui la Carter pensa come sarebbe bello vedere il quadro appeso in casa Forrester al posto di quello di Quinn. Per questo è convinta che deve pagare ancora di più Matteo per ottenere finalmente la fine del matrimonio della Fuller e di Eric. Quando il giovane massaggiatore raggiunge Shayla, le fa notare di non essere sicuro di poter distruggere il rapporto tra Quinn ed Eric. Ma la Carter lo invoglia a continuare, raddoppiando la sua offerta. Il resto del denaro che gli deve, glielo consegnerà non appena diventerà la moglie del Forrester. Anticipazioni beautiful americane, Liam e Sally ancora più vicini. Intanto, Liam si avvicina sempre di più a Sally. Quest'ultima è riconoscente allo Spencer per averla aiutata in un momento così difficile. I due effettuano anche un viaggio di lavoro insieme. Durante il viaggio aereo, Liam assicura a Sally di essere innamorato di Steffi e che, dunque, questa loro vicinanza è del tutto professionale. La Spectra ammette di non aver mai ricevuto tante attenzioni da parte di un uomo, ma nonostante ciò continuerà a rispettare il suo matrimonio con Steffi. La scuola è la scuola. 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 Grazie a tutti.